C'è il fotografo personale, voi non pazziate con questa cosa. Allora, dunque, a mo' ci vediamo, l'uscita è inelegante, uguale a quest'anno. La sigla, io vi pubblico la vostra canzone e ve la cominciate a studiare. Però l'ho preso, ho visto che siete tutte gravi, veramente, però desidero, lo so che è presto, ma alle tre t'ha staccato, deve essere una promessa. Alle tre meno cinque io, perché mi voglio spruzzare di farvi fare bella figura. Un'ultima cosa che voglio dire, io ho una lettera appresso, perché...